La bellezza e l'unicità dei manufatti creati da grandi artigiani italiani e salentini hanno conquistato fin dall'apertura centinaia di cittadini e turisti che da venerdì non sono voluti mancare alla 14esima edizione dell'Artigianato d'Eccellenza, la mostra a mercato del manufatto d'autore che per la prima volta si svolge nella suggestiva sede del Circolo Cittadino di Lecce. Fino alle 21 di domenica 26 maggio si potranno ammirare e acquistare le creazioni di alcuni tra i migliori artigiani d'Italia, dagli occhiali da sole Core Mio ideati da Laura Gobbi agli oggetti realizzati grazie al progetto Texil Design Social Lab e poi ancora i cosmetici naturali di Notte di Sapone e i gioielli di Olivia Monte Arduini, i collage preziosi di Cosimo Gabrieli e i raffinati outfit di Valeria Ferlini, oltre alle morbide creazioni di San Felice Kashmir, le sottovesti di sete italiana di Casa Rossa Tintoria e i monili di Angelorum. La mostra a mercato avrà anche quest'anno importanti ricadute benefiche. Sosterrà infatti le attività di Fondazione Silva per il recupero e rimboschimento di aree degradate del territorio italiano, oltre che Progetto Itaca che supporta persone affette da disturbi dalla salute mentale e le loro famiglie e infine Ant che aiuta chi è colpito da malattie oncologiche.